Sì, grazie. Buongiorno a tutti e un grazie particolare al dottor Trovati che ci ha dato la disponibilità a sovrintendere a questa mattinata di incontro, a questo workshop. Ringrazio particolarmente tutte le personalità e i tanti amici che sono qui presenti, in particolare il vice ministro dell'economia, il senatore Antonio Misiani e poi il sottosegretario al ministro dello sviluppo economico, la dottoressa Alessandra Todde, il presidente del generale Carta, il presidente di Leonardo, a cui mi fa piacere rivolgere anche le congratulazioni e gli auguri per questo alto incarico che ho assunto da poche settimane. e poi al presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana e al presidente del Cira che sono qui presenti, al dottor Pasquani e tante altre personalità che partecipano e hanno accolto questo invito rivolto in formato ristretto perché abbiamo purtroppo ancora queste esigenze dovute all'emergenza Covid e quindi a fare una cosa il più possibile contenuta per avviare un confronto e un dibattito con la comunità istituzionale e la comunità scientifica circa l'impiego e una riflessione sulle enormi potenzialità che ravvisiamo circa l'utilizzazione delle tecnologie più avanzate in particolare di natura digitale, spaziale, satellitare per funzionare alla valorizzazione del patrimonio pubblico. Questo è il tema oggi centrale che si pone nell'ambito degli obiettivi programmatici della missione dell'Agenzia del Demanio e ci tengo a sottolinearlo a beneficio di tutti gli utenti governativi e istituzionali perché voi sapete che l'Agenzia del Demanio è un organismo di natura prevalente tecnica che supporta ed è funzionale in particolare alle amministrazioni centrali dello Stato e a tutta una serie di titolari, di classi, di immobili che vanno dalla difesa alle forze di polizia, alle agenzie sorelle dell'amministrazione finanziaria, insomma tutta una serie di altre realtà che sono usuari, diciamo, utenti degli immobili del Demanio e in generale del patrimonio pubblico. Quindi questa iniziativa cerca di considerare, nasce diciamo da una valutazione anche di quello che è il quadro dei fabbisogni istituzionali più emergenti e tiene conto della congiuntura economica post-Covid. Cioè noi stiamo cercando di, abbiamo ragionato come mi pare stiano ragionando tutti insomma nella comunità istituzionale di come poter dare un piccolo e modesto contributo però magari significativo rispetto a questa situazione di crisi che non è una crisi probabilmente è la grande crisi come diceva prima il dottor Trovati e soprattutto cercare di dare un supporto, un contributo a questo sforzo veramente senza precedenti che il nostro Ministero dell'Economia, il Ministero di Riferimento e il Governo in generale stanno cercando di svolgere presso le istituzioni comunitarie e poi in generale nel contesto diciamo della programmazione degli interventi carattere nazionale per cercare di contenere né correggere diciamo gli effetti diciamo di questa crisi economica generata dal coronavirus e soprattutto mettere in campo delle iniziative di rilancio. Per cui diciamo questo nostro ragionamento tende ad interpretare diciamo e conformarsi alle nuove linee strategiche del Governo che sono state indicate recentemente nel MEF, nel Programma Nazionale di Riforme e alla nuova cornice di programmazione europea da cui ci si aspetta mi pare di capire un grosso sforzo da parte diciamo nazionale in termini di capacità di proposizione di progetti e di interventi che saranno sottoposti diciamo ad un sindacato molto attento da parte delle istituzioni comunitarie. Quindi questa riflessione cerca di poi immaginare diciamo in questo caso la fattibilità di un progetto tecnologico e di rafforzare gli strumenti di programmazione di intervento e di finanziamento utili per efficientare diciamo la missione dell'Agenzia in funzione della ripresa e del rilancio quindi delle attività economiche con una logica di massima apertura possibile all'utilizzo delle tecnologie emergenti. Qui tra di noi ci sarà chi ci darà diciamo dei suggerimenti e delle indicazioni in questo senso ma già come posso dire con alcune immagini si fanno vedere e così le formidabili potenzialità connesse alle applicazioni geomatiche e geodinamiche per quello che è la diciamo la analisi e la conoscenza del territorio e persino diciamo dell'interno diciamo delle infrastrutture così come mi piace ricordare che il nostro paese in particolare attraverso l'Agenzia Spaziale Italiana la Presidenza del Consiglio e la Difesa diversi anni fa ha iniziato e ora è in fase diciamo di aggiornamento questo straordinario programma che si chiamava Cosmoschime e ora ci sono le successive generazioni con cui è stata realizzata una grande capacità sistemistica nazionale nel campo diciamo dell'osservazione della terra e se vogliamo all'epoca quando fu concepito questo grande programma un programma che ha beneficiato anche di investimenti importanti che è stata una grande sfida sia per la nostra industria nazionale ma anche in generale per la comunità scientifica e di ricerca ci si aspettava diciamo una grandissima risposta in termini di sviluppo di applicazioni governative applicazioni governative che ci sono state ma c'è sicuramente ancora una forte aspettativa in termini di diciamo una risposta congrua rispetto a quella che è consentita dalle straordinarie capacità connesse a questo tipo di sistemi e di tecnologie qui va bene un'applicazione di interferometria e di change detection che come magari ci diranno gli esperti più tardi sono diciamo tecniche molto in uso tra gli esperti ma molto diciamo che hanno delle potenzialità formidabili per valutare la situazione e la condizione diciamo delle infrastrutture e in generale degli immobili e anche diciamo tutta una serie di capacità che si integrano con altri strumenti tipo più di impiego più tattico per esempio appunto la realtà immersiva e l'utilizzo dei droni se pensiamo oggi per noi demanio in generale per il ministro dell'economia e delle infrastrutture quanto è importante avere un monitoraggio e un censimento delle concessioni balneari e di tutta una serie di attività che il vice ministro Messiani conosce bene e credo che stiano diciamo disturbando i suoi sogni in questo periodo quindi diciamo abbiamo cercato di inserirci e di offrire diciamo al governo nazionale delle idee delle proposte per andare a incontrare diciamo questa nuova programmazione europea che portata avanti diciamo dagli orientamenti politici espressi dalla presidente von der Leyen che punta decisamente diciamo scommette decisamente su una duplice transizione ecologica e digitale dell'Europa e questa diciamo programmazione europea si impone una tabella di marcia molto ambiziosa che è basata su 43 nuovi obiettivi strategici tra cui spiccano diciamo quello che tutti conosciamo lo European Green Deal il programma di decarbonizzazione dell'energia, di protezione ambientale, di mobilità smart e sostenibile di l'Europa diciamo per la nuova fase diciamo strategia digitale un nuovo approccio alla intelligenza artificiale e la implementazione diciamo di un programma di cyber security e tutta una serie di programmi che divertono diciamo sulla strategia digitale in sintesi diciamo gli elementi per noi di maggior interesse riguardano lo European Green Deal e la rivoluzione digitale e in particolare questo impegno di costruzione di un'autonoma sovranità digitale europea siccome ci siamo dati dei tempi molto stretti sarò molto veloce nello scorre delle cose diciamo il Green New Deal è un grande programma tra cui particolarmente incentrato sui temi dell'efficientamento energetico degli edifici sulla riqualificazione diciamo degli immobili in cui si punta a mobilitare risorse di 100 miliardi per il ciclo di programmazione 21-27 soprattutto per le regioni più colpite poi c'è la strategia digitale dove la Fonderlion dichiara la transizione che ci attende copre tutto dalla cyber security alle infrastrutture critiche dall'istruzione alle competenze dalla democrazia e media non può essere lasciata a caso e annuncia diciamo un o l'impegno a garantire a tutti un importante dividendo digitale questa strategia digitale si struttura attraverso un'agenda digitale molto impegnativa e fa parte diciamo di una delle sette iniziative faro della strategia europea che è stata adottata strategia che si fonda su una serie di comunicazioni vado un po' scorro un po' velocemente una serie di comunicazioni che tendono soprattutto a promuovere ripeto la strategia l'agenda digitale soprattutto una strategia digitale per i dati e una strategia digitale per la cyber security e per la protezione delle infrastrutture critiche diciamo tutti gli analisti elaborano dati che sono impressionanti per quello che sarà diciamo il volume degli investimenti e dei fabbisogni in questo settore che vi faccio scorrere senza illustrare particolarmente e poi c'è questo tema della costruzione di un'autonoma sovranità digitale europea anche la Fonderlion dichiara che soprattutto in materia di sicurezza dei dati e delle economie come i nostri diritti la nostra privacy le nostre tutele dovranno essere gli stessi online ed offline quindi comunque c'è la scommessa per forti diciamo una strategia di importanti investimenti per in termini di capacità digitali proprie sia che si tratti di informatica quantistica 5G cyber security e in particolare intelligenza artificiale sono fatti oggetto di specifici atti oltre che di una legge che riguardava la Green Economy specifici atti che riguardano appunto la comunicazione 65 che è il libro bianco sull'intelligenza artificiale e la 66 la strategia europea per i dati la 67 che è Shaping Europe's Digital Future che appunto è concentrata più sul digitale questa comunicazione contempla quindi un quadro di iniziative che hanno come proposito quello del potenziamento della connettività e del rapporto tra i cittadini e le pubbliche amministrazioni nuove misure per il sistema delle imprese e per potenziali competenze digitali e la strategia si propone di realizzare un grande cloud europeo per competere a livello internazionale nei big data e il libro bianco un bianco indica strumenti e orientamenti per rendere accessibile a industria ma anche a pubblica amministrazione e PMI e l'intelligenza artificiale quindi l'obiettivo quindi è assicurare questa sovranità digitale attraverso sviluppo di tecnologie e infrastrutture reti e capacità digitali e ridurre la dipendenza nella fornitura di tecnologie da paesi estraeuropei e recuperare il ritardo che ancora la separa da competitor di grandi livelli sul tema degli investimenti ho accennato posso un po' saltare anche qui il quadro delle risorse sono stati previsti allo Stato 8,2 miliardi per il programma Europa Digitale che è quello più centrato su intelligenza artificiale Supercomputer Cybersecurity Digitalizzazione dell'industria e competenze digitali oltre 83 miliardi ma di cui la Commissione Europea ha chiesto l'aumento a 120 per il programma europeo Orizzonte Europa di cui molti sono destinati come risorse alla parte digitale oltre che all'industria e poi ci sono 2,6 miliardi per i sistemi di collegamento digitale 13 miliardi per il fondo InvestEU e 14 oltre 14 miliardi per il programma spaziale dell'Unione Europea Vado avanti in questo caso velocemente e quindi sostanzialmente diciamo per fare questo il nostro governo recentemente diciamo ha inserito dei punti fermi all'interno diciamo del programma Nazioni e Riforme che in generale riguardano il rilancio e la crescita l'innovazione e la sostenibilità che sono formule ovviamente generiche ma che sono poi invece mi piace leggerle che riguardano l'Agenzia del Demanio dove si dice che le politiche di valorizzazione assegnano un ruolo rilevante anche alla funzione di stimolo degli investimenti pubblici e privati che il patrimonio pubblico svolge come testimoniato agli indirizzi strategici dell'Agenzia del Demanio nonché al settore dell'edilizio ecosostenibile come nel caso della difesa l'Agenzia del Demanio in riferimento al patrimonio in gestione ma anche nel ruolo di supporto agli altri enti pubblici proprietari si adopererà per implementare alcuni diritti strategici quali la pianificazione di interventi integrati di conversione del patrimonio pubblico non strumentale l'attuazione di un piano di rigenerazione del patrimonio pubblico volta a contribuire alla realizzazione del Green New Deal attraverso interventi di adeguamento sismico sicurezza strutturale qualità ambientale ed efficientemente energetico nonché rendendo operativa la struttura di progettazione e poi la realizzazione di un programma di investimenti tecnologici e di digitalizzazione sugli immobili pubblici e questo è il punto su cui ci poggiamo particolarmente con l'obiettivo di incrementare la conoscenza e l'efficienza della gestione e quindi della valorizzazione e la manutenzione e poi la rimodulazione delle risorse finalizzata al coordinamento con i lavori e le fasi della programmazione comunitaria nazionale anche prevedendo la possibilità di un programma operativo nazionale che abbiamo chiamato bellezza legato al tema della valorizzazione dei beni pubblici che è comprensivo di una serie di azioni specifiche e questi sono dei punti introdotti dalla PNR e la strategia di innovazione guarda soprattutto alla introduzione dell'intelligenza artificiale al servizio dello Stato anche nella gestione dei beni demaniali ora molto ci si attende dal decreto legge rilancio e dal decreto legge semplificazione diciamo che in fase di diciamo di miniter diciamo di approvazione che non scusa e quindi poi ci sono così tutta una serie di linee strategiche che sono anticipate rispetto all'eventuale programma di ripresa e resilienza che bertono molto diciamo sui temi di cui trattiamo e chiedo scusa per fatto un po' di per cui noi diciamo abbiamo di fronte diciamo dei fabbisogni enormi e abbiamo pensato che questi fabbisogni che costituiscono diciamo un elemento di criticità del sistema potrebbero essere trasformati in una diciamo in senso positivo come un'opportunità per stimolare l'economia e il rilancio dell'economia di un settore come quello dell'industria edilizia che ha subito e sta vivendo diciamo una crisi drammatica l'altro giorno nelle previsioni economiche d'estate avete visto che la commissione europea ha previsto per l'Italia un meno 11,2 ma anche l'eurozona non sta bene con l'8,7 è forte l'impatto sull'industria edilizia e abbiamo pensato appunto che in questo caso il demanio è un po' come un gigante buono che potrebbe svegliarsi diciamo ed essere messo come diceva il dottor trovati a beneficio soprattutto della ripresa e dell'economia reale assicurando un altro tipo di contributo le potenzialità sono enormi questi sono alcuni elementi di classi di beni di prestigio piuttosto che per esempio di beni abbandonati o destinati diciamo a sicura rovina che potrebbero essere diciamo valorizzati attraverso troppo sensibili attraverso diciamo lo strumento della e quindi questi sono i fabbisogni che noi abbiamo identificato e su cui pensiamo di intervenire abbiamo individuato spazi normi per incrementare l'efficienza dei sistemi gestionali con possibile riduzione dei costi relativi abbiamo pensato che ci sono ampi margini per migliorare la produttività ma soprattutto per generare nuovi servizi a beneficio degli utenti e delle comunità territoriali e ottenere anche una diversa possibile redditività degli immobili questo primo programma che abbiamo sottoposto è un programma straordinario che abbiamo chiamato Smart Green Buildings e Talking Goods e che quindi potrebbe essere diciamo un progetto esemplare di formidabili di tipiche applicazioni governative che puntano sulla integrazione diciamo di queste nuove opportunità consentite dalle tecnologie innovative e che ricordo è sempre a beneficio di amministrazioni pubbliche centrali del demanio militare le forze di polizia insomma del demanio storico-culturale e quant'altro il secondo è appunto il discorso della possibilità di un po' in bellezza quindi che un programma nazionale basato sul nuovo ciclo di programmazione 21-27 che potrebbe diciamo promuovere il finanziamento di iniziative compatibili con la caratteristica dei beni comuni che hanno al centro dei beni demaniali e che come voi sapete i programmi operativi nazionali possono essere strutturati e declinati attraverso delle azioni integrate e queste azioni integrate servono obiettivi trasversali e noi già abbiamo immaginato che obiettivi trasversali sono per esempio quelli che riguardano la rifunzionalizzazione di beni dell'ex demanio militare o quelli del patrimonio storico-artistico-culturale oppure beni che hanno una particolare vocazione turistica o sportiva oppure grande patrimonio di Roma città metropolitana che è molto esposto diciamo a fenomeni di degrado oppure ad iniziative di valorizzazione di carattere straordinario i beni del demanio sono una classifica diciamo enormi e quindi diciamo del progetto portafoglio digitale ho parlato quindi cioè questo è il tema centrale vedere se è possibile evolvere gli attuali sistemi fondati su Open Demanio e il BIM in un nuovo sistema di metadati che integra queste tecnologie e per consentire diciamo la possibilità di migliorare la conoscenza la gestione l'elaborazione l'organizzazione e la diffusione dei dati generali del patrimonio pubblico al maggior grado tecnico dello stato dell'arte delle tecnologie qui ragionando anche con la sottosegretaria dello sviluppo economico abbiamo notato come ci sono degli elementi diciamo di collimanza di correlazione con alcuni obiettivi di questo programma chiamato Smart Eritary e soprattutto diciamo la possibilità di promuovere la trasformazione del concetto di immobile da bene passivo ad un elemento attivo mediante la possibile fornitura di nuovi servizi a valore aggiunto e questi diciamo come diceva prima il dottor Trovati la consistenza del patrimonio pubblico enorme parliamo di 42.718 cespiti diciamo per un valore di oltre 61 miliardi solo per quello che riguarda lo Stato per non parlare di altri elementi in generale del patrimonio pubblico e quindi il concetto di demanio attivo cioè fare in modo che questo l'idea l'approccio al bene all'immobile sia in chiave Smart cioè finalizzato non solo diciamo a migliorare la funzionalità e la comodità a beneficio del cliente istituzionale che è usuario dell'immobile ma anche vi potrebbe essere data l'estrema diffusione e capillarità dei beni del demanio sul territorio nazionale una prospettiva esterna cioè la possibilità di divenire un nodo di servizi a beneficio delle comunità urbane e territoriali e una serie di servizi che possono incrementare il valore della produzione il livello di efficienza gestionale e in generale la qualità dei servizi generare redditività ulteriore e questi servizi quali possono essere teoricamente tutti cioè reti e servizi di alta connettività 5G banda larga e ultralarga telecomunicazioni soluzioni per superare il digital divide innovative soluzioni per lo stoccaggio distribuito di energia strumenti per promuovere la formazione e lo sviluppo di energy communities nuove soluzioni per la sorveglianza e la sicurezza dei fabbricati pensiamo all'uso dell'interferometria al sottosegretario Sibilia benvenuto la possibilità di apporre le centraline a reti sensoristica ambientale la ripresa per la sicurezza sistemi di backup per salvaguardare l'efficienza di reti e fibre oppure in generale la spinta innovativa ai sistemi di efficientamento energetico e di produzione da rinnovabili anche funzionali allo sviluppo di postazioni e grid di ricarica per la smart mobility in particolare la sfida potrebbe essere quella di una call for proposal per cercare di immaginare delle soluzioni per esempio un nodo multitecnologia come uno strumento in grado di integrare una serie di possibilità che si possa integrare con elementi del patrimonio per poter generare una rete di servizi distribuita e qui anche il tema che lascia a voi particolarmente il demanio digitale ai più esperti e competenti solo rilevando che appunto la presidente von der Leyen parla che la transizione e la costruzione della sovranità digitale copre tutto dalla cyber security alle infrastrutture critiche e quindi in questo senso diciamo si può immaginare che è l'evoluzione diciamo del concetto di demanio da una diciamo concezione classica di elemento così di natura materiale anche ad un concetto un po' più aperto che vada ad abbracciare se vogliamo anche le infrastrutture tecnologiche i domini di carattere immateriale che sono a beneficio ripeto di tutti gli utenti e della comunità istituzionale sarò qui veloce insomma la strategia europea in questo senso sembra molto diretta e gli investimenti immaginati sono importanti mi pare che anche il nostro governo attraverso il competente ministro abbia diciamo immaginato degli investimenti importanti in particolare un fondo innovazione che cerchi di cogliere diciamo i temi della trasformazione digitale della banda ultralarga del 5G e in generale il tema della sicurezza delle infrastrutture e dei dati recentemente abbiamo osservato che Google ha annunciato un programma Italia in digitale con investimento di 900 milioni in 5 anni per accelerare la digitalizzazione italiana e dove si prevede l'apertura di due Google Cloud Region in partnership con Team diciamo questo è un progetto che abbiamo osservato e che abbiamo registrato quindi vado alle conclusioni l'idea di oggi era appunto quella di buttare il sasso diciamo nella direzione di confrontarci diciamo con tutti voi per acquisire un contributo di idee di esperienza e soprattutto capire che questo strumento può essere un strumento formidabile per mettere in campo diciamo una applicazione governativa importante che a suo tempo si era immaginata quando si era pensato di investire diciamo su questi programmi e sullo sviluppo di capacità sistemistiche che potrebbe essere particolarmente interessante per andare a creare dei presupposti per l'attrazione di risorse comunitarie in questi tre grandi assi rispetto ai quali credo che l'Italia questa volta insomma un po' per la situazione un po' per la strategicità diciamo degli ambiti non possa assolutamente mancare di presenza e anche di operatività per cui mi scuso diciamo di questa diciamo un po' lunga presentazione però era importante diciamo descrivere bene la cornice rispetto alla quale abbiamo voluto avviare questa diciamo questo confronto e ringrazio ancora le personalità intervenute insomma per il contributo e gli impegni insomma che potranno manifestare grazie